La prima è quella a cui teniamo di più, andare a giocare a Tavagnacco è una bella partita perché comunque noi vogliamo vincere, vogliamo i tre punti, vogliamo andare a punteggio pieno in campionato sappiamo che è difficile però se giochiamo palla bassa come noi sappiamo e abbiamo la forza di portare a casa questi tre punti riusciremo